Eleonora Fastellini schiacciatrice della Leonardo di Sirio Perugia, una vittoria rotonda 3-0 contro Corciano che significa respiro salvezza, tre punti importantissimi. Sì, erano tre punti assolutamente da prendere, ci aspetta un'altra tre gare in cui dovremmo dare il pregio di noi per avere un punteggio pieno anche sulle piste. Dopo la sconfitta di Bastia ci voleva per voi un riscatto, oggi ha funzionato tutto bene possiamo dire? Assolutamente sì, Bastia era un match almeno da strappare dei punti, purtroppo non abbiamo saputo sfruttare l'occasione che avevamo, nonostante loro non avessero una squadra top della forma. Adesso che Corciano, una diretta avversaria per la salvezza è stata estromessa, su chi è che fate la corsa ancora? Beh sicuramente contro Lucrezia, sarà un match decisivo. Lucrezia che tra l'altro è una delle prossime avversarie vostre? Sì, la prossima, la prossima settimana. Quindi sicuramente sarà questa la partita che potrà decidere la stagione? Sì, sì e no, nel senso in questi tre match che avremo adesso è meglio che possiamo prendere, dobbiamo prendere. Quanti punti servono secondo te perché Perugia si salvi? Ma fa culo!